Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui su Battle Spirit Central, sono Luca, ci scusiamo per l'assenza della scorsa settimana, dello scorso weekend, ma abbiamo avuto dei contrattempi, sia io che l'altro Luca non si è riusciti a portare nessun video, comunque seguiranno senz'altro video di altri spoiler del terzo sette, anche se non ci stanno rendendo la vita facile, visto come li stanno mettendo fuori, e soprattutto seguiranno poi altri video di gameplay, speriamo di tornare a registrarli, visto che vi erano piaciuti. Vi invito comunque a iscrivervi, a commentare se non l'avete ancora fatto, e lasciare un like che a noi serve moltissimo, è importantissimo. Oggi di cosa parliamo? Parliamo dello Structure 06, quindi il primo Structure blu, con l'introduzione di questo nuovo colore, di cui avevamo già avuto una carta nel lore set, ma che era abbastanza trascurabile diciamo. È uno strutture abbastanza interessante, per cui andiamo subito a vedere le nostre carte. Ok, come vedete, nel sito hanno aggiunto anche la quantità di carte presenti, di ciascun tipo di carta all'interno dello strutture, si tratta di una cosa molto interessante, in modo da non comprarlo completamente alla cieca. Comunque bene o male, vediamo che la razza è sempre quella, due copie della carta principale, la maggior parte sono in tre per, qualcuna in quattro per. Comunque per avere il playset di tutto bisogna ovviamente prenderne sempre due, ma direi che ci può stare, insomma. Partiamo dunque col nostro boss di questo mazzo, ovvero con quest Mio Nirvana, tipologia War God, che non esisteva nello scorso Battle Spirit, probabilmente va un po' a sostituire quello che era Fighting Spirit, costo 8-3, quindi bello costosetto, punti battaglia elevati, 6-mila, 8-mila, 11-mila, 1-3-6, abbastanza normali per il blu, classici anche da carta da strutture, sono gli stessi di Gale Phoenix tra l'altro. Allora, effetto, tutti i suoi livelli, quando attacca c'è Crash più 2, il vecchio Smash, cioè scarta un numero di carte dal mazzo dell'avversario pari al suo livello, quindi livello 1 una carta, livello 2 due carte, livello 3 tre carte, più qualunque altra modifica specificata, in questo caso più 2, quindi ogni volta che faremo questo calcolo dobbiamo aggiungere anche due carte, quindi a livello 1 scarterà tre carte, a livello 2 ne scarterà 4, a livello 3 ne scarterà 5. A livello 2 e 3, quando attacca, abbiamo Raid 1, quindi un'altra nuova keyword, il vecchio Fier Assalto. Quando lui viene impegnato per attaccare, possiamo impegnare un Nexus che controlliamo per disimpegnare Nirvana, lo possiamo fare una volta perché è Raid 1, fosse stato scritto Raid 2, potevamo farlo due volte, ovviamente ci servivano poi due Nexus da impegnare. Dunque, che dire di questa carta? Abbiamo l'introduzione del 1000, molti lo temevano, altri lo aspettavano, io sono un po' scettico, nel senso che la carta sembra fighissima, sembra forte, però questa tipologia di carta, che alla fine punta proprio sul 1000, corre il rischio di non essere abbastanza impattante sul terreno. È un body grosso che però costa anche parecchio da evocare e, tra virgolette, l'unica cosa che fa è scartare un po' di carte da cima del mazzo dell'avversario. È, diciamo, se vogliamo, qualcosa di molto divertente quando lo usi tu, può togliere risorse all'avversario prima ancora che lui sia in grado di utilizzarle, però di fatto non fa nulla sul terreno. Ok, va bloccato, magari fa dei danni alle vite, però di fatto non incide particolarmente sulla partita, secondo me. Per cui è una carta forte, bisogna vedere ovviamente che cosa altro ci riserva il 7. Però di per sé non mi sembra così sbroccata, ecco, spero che il blu abbia anche di meglio, perché se fossero tutte sul genere queste carte, secondo me, non sono tanto forti, ecco. costo 5, di questo ne abbiamo 3 coppie, la nostra rara, Iceland Bearer Francis, un altro War God, costo 5-2, 8000 a livello 3 con costi elevati, 1, 4, 6. Abbiamo un altro Crash, questa volta più 1, quindi a livello 1 2 carte, a livello 2 3 carte, a livello 3 4 carte, quindi comunque un Crash onesto. E poi se l'avversario a livello 2-3 ha 10 o più carte nel suo Trash o guadagna Ride 1, quindi una versione un po' più scarsa, diciamo, della carta principale, della X. Anche su questo vale il discorso che ho fatto su Nirvana, insomma. Sì, però questa poi ancora meno incide sul terreno, perché non ha nemmeno lo stesso mill power della X, quindi un po' appena sufficiente, diciamo. Poi ovviamente queste sono opinioni date senza aver visto il resto del set. Retrainer Mioho Rudra, quindi 3-1, un Crash a costo basso, tra virgolette, perché a livello 2 costa 4 nuclei, a livello 3 costa 6 nuclei, e quindi per scartare 3 carte dobbiamo investirci 6 nuclei sopra. È un 7000, quindi onesti come punti battaglia, però veramente molto costoso, e comunque secondo me non particolarmente essenziale. Se c'è una cosa che lo scorso Battle Spirit ci ha insegnato è che le carte forti col 1000 sono poche, e di solito non sono a costo basso. Un discorso simile sarà fatto anche per Giant Capitan Jason, di cui penso avremo 4 copie. Lui ha degli ottimi punti battaglia, come tra l'altro mi sembrava anche Rudra avesse 4000 a livello 1, no. Rudra ha 3000 a livello 1, Jason ne ha 4000, quindi buono, sappiamo, 4000 a livello 1 è abbastanza buono. Crash più 1 costa un po' di più, però anche qui sempre stesso discorso. Queste carte che fanno solo 1000 di fatto non incidono sul terreno, magari possano essere utili nei primi turni perché sono dei corpi grossi che l'avversario magari non sempre è in grado di bloccare bene, quindi tolgono vita all'avversario, però di fatto oltre che scartare qualche carta dal suo mazzo non incidono, non fanno altro sul terreno, per cui sono di forza relativa, diciamo. Scartare carta dal mazzo può sembrare molto forte, è molto forte, però si basa poi anche un po' sulla fortuna, quello che togli, quindi bisogna un po' starci attenti, ecco, a non esaltarsi troppo secondo me. Fort Golem, tipologia Golem, abbiamo l'introduzione di questa tipologia, il vecchio artificial soldier, personalmente adoro il fatto che li abbiano chiamati Golem. Costo 6-2, dalla nostra mano lui costa 4 se controlliamo un Nexus, quindi ottimo. 4000 a livello 1, 8000 con 4 nuclei a livello 2, quando attacchiamo possiamo impegnare un nostro Nexus e distruggere uno spirit di costo 3 o meno dell'avversario. Ecco, questa è già una carta che mi piace di più, onestamente. Peccato che abbia l'effetto solo a livello 2, forse non sarebbe stato male che ce l'avesse anche a livello 1, essendo una rara, però questa è una carta che mi piace perché entra a costo basso, per cui alla fine con 6 nuclei riusciamo a tenerlo su, quindi una carta da Year Limit Game ci entra e possiamo cominciare a spaccare gli spirit dell'avversario, che è spaccare tra l'altro per costo. La distruzione per costo è una delle forme di distruzione più forti che c'è in Battle Spirit, perché non importa quanti punti battagli hai, non importa quanti nuclei hai, la distruzione per costo ha comunque effetto, perché il costo è una delle poche cose che non si riesce a controllare e a cambiare facilmente in Battle Spirit. I nuclei si possono cambiare, i punti battagli anche, il costo no, al momento non si riesce, per cui la distruzione per costo è inevitabile a meno che uno non abbia armor o altre forme di protezione. Sempre Golem, Bronze Golem, costo 3-1, quando distrutto otteniamo un nucleo su un nostro Nexus, effetto più che onesto, per un costo 3 con punti battagli onesti, secondo me questa è una buona carta magari non particolarmente incisiva, ma ottenere un nucleo e un corpo non è male, certo sembra che perdere uno spirit per ottenere un nucleo secondo me non è mai un gran trade, però comunque è uno spirit piuttosto grossettino. Mitri Golem, Vanilla, 6-3, 6-9-1-3, un bel Vanillone, bello anche da vedere, però sì, come è il solito discorso sui Vanilla, che se costano più di 2, difficilmente vedranno gioco, Rammer Golem 2-1, sempre Golem, 1-4000, questa è una delle carte che più ha sorpreso, During Gator at Tech Step, quando un nostro Blue Nexus viene impegnato, selezioniamo uno degli spiriti dell'avversario che costa 4 o meno e lo distruggiamo, 4 o meno non è poco come livello di distruzione, dobbiamo impegnare un Nexus, quindi richiede un po' di setup, non sempre riusciremo ad utilizzarlo, inoltre è un costo 2, è un 1000 punti battaglia a livello 1, difficilmente lo si metterà al 2, perché 4 nuclei su uno spirit, insomma, uno spirit del genere non si mettono, per cui è facilmente autabile, però l'effetto è molto forte, quindi secondo me almeno una volta lo si dovrebbe riuscire ad utilizzare, poi l'avversario te lo toglierà, però intanto qualcosa riesce a fare di sicuro, molto buona questa carta, probabilmente vale la pena prendere due ST soltanto per avere quattro ramar golem. Bantigore, Aberration, bellissima questa famiglia, vanilla, scarso, quindi passiamo oltre, Hollow, Sea Beast, Emeryldra, Hydra, anche questa nuova tipologia, hanno introdotto un sacco nuove tipologie, 4-3, 4 mila livello 1, l'unica cosa buona per il resto, oltre all'immagine che secondo me è fighissima, poco da dire, Battle Beast Bulltop Dog, War Beast, costo 2-1, un altro costo 2, non comune, e durante la nostra attack step ogni volta che uno spirit viene scartato attraverso Crash otteniamo un nucleo su di lui, e ovviamente questo effetto si può attivare una sola volta, nel senso che se scartiamo 3 spirit con un Crash otterremo sempre comunque un solo nucleo, certo se abbiamo due Bulltop, ne otterremo due, però con un Bulltop si ottiene sempre un solo nucleo a volta, effetto buono, niente da dire, molto forte, questa carta in sé potrebbe rendere giocabili i costi bassi con Crash, giusto per rampare un po' di nuclei nei primi turni, sostanzialmente potrebbe, già solo con questa carta, i costi bassi con Crash che abbiamo visto prima potrebbero essere già più giocabili, molto buona anche questa, probabilmente è una delle carte che vale la pena avere in 4x. Anson Colossium, partiamo con i Nexus Blue, che hanno sempre avuto la nomina di essere piuttosto forti, Anson Colossium costo 4-2, livello 1 tutti i nostri spirit con Crash prendono più mille punti battaglia, forte, più mille gratis non si butta mai via, e a livello 2 con ben 3 nuclei, quando il nostro avversario evoca uno spirit che ha un effetto quando evocato, scartiamo 4 carte da cima del suo mazzo, ecco, questo è un effetto molto bastardo, molto forte, 3 nuclei su Nexus non sono pochi, ma ne vale davvero la pena, specie perché adesso One Summon ce ne sono parecchi, specie in diverse tipologie di mazzi, ma è veramente una carta forte anche da tenere in side in generale contro il viola, ma anche contro il giallo, perdere 4 carte ogni volta anche One Summon, insomma, è quasi un flatgate, quindi molto buona questa carta, anche questa in 3 pair, forse questa varebbe la pena averci l'imp4, anche per poterla mettere in side magari in altri mazzi, non per forza nel blu, Honorable Duel, costo 4-2, mitica costo Nexus, onestamente, per chi seguiva il vecchio battle spirit, abbiamo durante il nostro attack step, quando il nostro spirit console core sconfigge uno spirit dell'avversario in battaglia, quindi comparando i punti battaglia, scartiamo 3 carte dal mazzo dell'avversario, livello 2-2, 2 nuclei, durante il nostro end step possiamo disimpegnare un golem o un war god che controlliamo, questo è un super nexus, onestamente direi, questo è un super nexus direi, onestamente, perché il primo effetto non specifica colori di spirit, niente, quindi tendenzialmente si potrebbero anche costruire altri tipi di mazzi, ad esempio un confront mill, awaken mill, che spostando il soul core ovviamente magari non è così efficace, però potrebbe, però sono strade percorribili e in generale dare un ulteriore mill è quello che serve a questi tipi di, se davvero questo tipo di mazzo punta esclusivamente sul mill, anche se personalmente il mill lo vedo più come un'aggiunta a magari effetti di distruzione o effetti come raid che permettono di attaccare più volte, in più magari ogni tanto millare qualche carta, però non lo vedo, cioè finire il mazzo dell'avversario non lo vedo al momento come main focus del blu, quantomeno percorribile, con le carte che conosciamo adesso, quantomeno. Secondo effetto, niente da dire, due nuclei per questo effetto è estremamente forte, disimpegnarsi uno spirit in end step ti permette di fare tante giocate che altrimenti non faresti, quindi veramente buono. flood stream, questa è in 4x, una magia rara, 5-2, burst, quando perdiamo una vita selezioniamo uno spirit e lo trattiamo a livello massimo, effetto trascurabile secondo me, e soprattutto alla luce del secondo effetto dato che o in main o in flash ci permette di distruggere un totale di spirit il cui costo totale sia 5 o meno, quindi possiamo distruggere qualunque numero di spirit in che il costo è 5 o meno. Non vuol dire che, ovviamente questo non vuol dire tutti 5 o meno, ma vuol dire semplicemente appunto un totale di spirit. E' effetto veramente molto forte, certo seleziona quindi non va sopra armor, però ti permette di uscire fuori da situazioni piuttosto importanti quando sei contro, anche qui ad esempio contro Terasaur lo puoi farli veramente male perché gli puoi togliere due spirit in una botta, almeno due spirit, senza contare poi i vari costi zero che si sono messi a girare, e i costi zero li puoi includere nel conteggio finché ne hai, potenzialmente li puoi distruggere anche 5 costi zero e altri spirit, quindi veramente veramente molto forte. Il primo effetto sul burst ha meno senso secondo me, per quanto comunque trattarsi uno spirit a livello massimo può avere degli effetti anche magari dei difensivi, adesso appunto non conoscendo tutte le carte magari tutte le vere implicazioni di questa magia non le possiamo indovinare. Penso che siamo arrivati all'ultima carta, blitz, costo 3-2, burst quando perdiamo uno spirit, scartiamo 5 carte dal mazzo dell'avversario e poi in flash più 2000. Un flash più 2000 che costa così poco in questo mazzo non lo butterei via, e l'effetto burst non lo so, non lo vedo così utile onestamente, noi scartare 5 carte perdendo uno spirit non so quanto ci convenga secondo me conviene più cercare di tenere sul terreno i nostri spirit, quindi più che altro usarlo dalla mano come flash per belli più 2000. Però sì nel complesso non ho una carta pessima, invece mancava ancora una carta, e che carta? Blessed course, costo 4-2, in main possiamo selezionare due dei nostri nexus e metterci un nucleo sopra, ciascuno di esse, e poi più 3000, per costo 4-2 più 3000 non è poco, poi anche il primo effetto rampare due nuclei, certo ci servono due nexus sul terreno, ma come avete visto i nexus blu non costano tanto e sono molto forti, quindi vale la pena giocarli, e quindi gran carta anche questa, probabilmente da splashare in altri mappi perché non richiede colori di nexus, quindi molto molto forte questa carta. Ok, in compagnia del nostro Nirvana direi che possiamo concludere il video, cosa dire dell'ST? Beh più o meno ho già detto tutto, sì, le carte sono interessanti, secondo me visto come l'hanno messo il 1000 non sarà ancora particolarmente forte, probabilmente mi pentirò di quello che sto dicendo perché adesso uscirà la carta nel set principale che devasterà tutto, però guardando soltanto lo structure deck il 1000 è diciamo un accompagnamento ad altri effetti blu, infatti personalmente più che questa, più che Nirvana mi piacciono di più altre carte come Rammer Golem, come Fort Golem o come soprattutto i Nexus e le magie di questo structure deck. Magari anche Nirvana potrà avere il suo spazio, ma secondo me non non mi la abbastanza per essere effettivamente usato per quello che dovrebbe essere usato, però magari mi dovrò ricredere. Detto questo è tutto, vi ho già detto tutto all'inizio del video e ci vediamo al prossimo video il prima possibile. Ciao a tutti!